Percorso netto almeno in casa, anzi proprio il fattore campo rispettato per 15 domeniche ha permesso a Lions Biceglie di costruire quel secondo posto sul quale si è issato al termine della stagione regolare del campionato di Serie B di Palacanestro. Traguardo probabilmente sognato a inizio stagione ma realisticamente lasciato ad altri, almeno nei pronostici dell'estate. Invece Biceglie ha sorpreso tutti, forse anche se stessa, conquistando meritatamente la piazza d'onore. Piazzamento puntellato domenica scorsa grazie al successo facilmente pronosticabile contro Monteroni che avrebbe dovuto compiere un'impresa per evitare la retrocessione in Serie C Silver e che permetterà alla squadra di Domenico Sorgentone di sfruttare il fattore campo nei play-off che cominciano tra sei giorni. Si ripartirà al Paladolmen domenica 30 aprile con la Luis Roma, settima classificata del girone C di questo campionato, la cui novità nei play-off è rappresentata proprio dagli incroci tra le prime otto del raggruppamento D, quello del Biceglie, con le squadre del gruppo C. E se andrà avanti così sino alle semifinali dalle quali verranno fuori le squadre che si ritroveranno alle finali A4 per giocarsi la promozione in Serie A2. Traguardo che per adesso Biceglie prova a non mettere in cima i propri pensieri perché come accaduto a inizio stagione sono sulle spalle di altre squadre le responsabilità di compiere il salto di categoria. Ma ai Lions il ruolo di outsider calza a pennello.